Buonasera e benvenuti alla seconda puntata della trasmissione un traguardo chiamato assoluti manca sempre meno alla fatidica data 29 30 giugno proprio data in cui si svolgeranno qui alla spezia al campo sportivo montagna i campionati di atletica assoluti dopo aver un po' parlato presentato l'evento insieme al presidente della società atletica duferco spezia Roberto Colombo abbiamo ospite in questo secondo appuntamento Carolina Leporati tecnico della società atletica spezia duferco dalla categoria cadetti in su benvenuta buonasera buonasera a tutti ecco nella scorsa puntata insieme a Roberto Colombo abbiamo un po' parlato della storia di come si è arrivati a raggiungere questo ambizioso traguardo di poter ospitare nella nostra città i campionati italiani assoluti e per proseguire un po' il racconto di questa cronistoria 25 anni fa nasceva proprio la spezia atletica spezia duferco ci racconti un po' una testimonianza di questa storia eh sì io sono un po' una testimonianza eh della nascita che va dalla nascita di questa società ai giorni nostri perché questa società è stata creata da eh mio papà che chi collaborati e altri amici appassionati tra cui anche il l'attuale presidente Roberto Colombo per far fare atletica ad un gruppetto di all'epoca ragazzini me e alcuni alcuni miei amici una decina di ragazzini e da lì siamo partiti e siamo arrivati ad essere una società comunque conosciuta a livello nazionale e quest'anno appunto società che è stata eh questo percorso è stato gratificato dall'ottenimento della possibilità di organi di essere una società organizzatrice eh dei campionati italiani assoluti di atletica che è assolutamente un un traguardo importantissimo che poche società riescono ad ottenere in Italia eh perché appunto gli anni addietro comunque società assolutamente più importanti o città comunque più rodate diciamo nell'organizzazione di questi eh di questa di questo tipo di manifestazioni hanno riescono ad ottenere i campionati italiani assoluti per la spezia è una grandissima opportunità e per noi una una gradificazione unica ecco sì sono cambiate sicuramente tante cose da allora ad oggi forse mi viene da pensare che il cambiamento più radicale sta proprio nei numeri sono sicuramente cambiati i numeri perché ci sono molti più ragazzi ci sono molti più tecnici però non è cambiato lo spirito diciamo il senso di appartenenza il senso di essere una grande famiglia quello che comunque ci lega e ci ha portato avanti che siamo abbiamo cercato noi diciamo ormai mi sento della vecchia guardia è quello che cerchiamo sempre di di trasmettere a chi a chi arriva a chi arriva sia come atleta ma anche come persona diciamo che si aggiunge anche con un'altra qualifica come o come tecnico come dirigente o come semplicemente appassionato che vuole avvicinarsi al mondo dell'atletica ecco questa è una è una cosa che cerchiamo sempre di di trasmettere sì e parlando proprio del tuo di ruolo eri un po' una predestinata perché in qualche modo la tua data di nascita coincide con uno degli eventi sicuramente più importanti per l'atletica spezzina e quindi mi sorge un po' spontanea la domanda come in che modo è ereditato comunque da tuo padre questa grandissima passione ma io sono un po' un po' nata nei campi di atletica alla fine non mi sono mai allontanata ecco e sono cresciuta con con l'atletica a casa e quindi ritrovarmi a 12 anni a correre in un campo non è che fosse stata una cosa una novità per me è sempre stato così poi magari a quell'età ho iniziato a farlo magari con una guida e un pochino più come si fa come si inizia a fare per cercare di diventare un atleta però poi l'atletica è sempre stata per me è casa quindi per mia famiglia e è anche bello vedere l'emozione comunque nel raccontarlo ecco che cosa significa per te poter proprio trasmettere non solo tutto quello che conosci di questo sport ma anche proprio i suoi valori ai ragazzi che e alle ragazze che oggi segui per me l'atletica prima di tutto è passione ed è emozione cioè mi emoziona ho visto eventi sportivi ad oggi dalle olimpiadi alle gare dei bambini però diciamo l'atletica per me è assolutamente emozione famiglia quindi adesso collaborare per organizzare un evento di questo tipo è assolutamente emozionante gratificante ecco sì sì ecco che come si stanno proprio preparando non solo da un punto di vista sportivo ma anche psicologico tutti gli atleti che seguo in questo periodo in vista di questo appuntamento perché so che comunque molti dei ragazzi appunto che che alleni hanno proprio il desiderio di ben figurare chiaramente i campionati italiani assoluti ma molti direi molti no perché i campionati italiani assoluti proprio per antonomasia sono per pochi sono per pochi atleti già chi gli atleti che partecipano ai campioni italiani assoluti sono atleti di assoluto livello nazionale e molti sono atleti che fanno un'attività di rilievo a livello internazionale qui a spezia abbiamo un paio di atleti che possono ben figurare a questi ma questi campioni italiani assoluti e quindi mi auguro che per loro sia un motivo di stimolo il fatto che siano organizzati nella loro città perché sì devo dire che l'atletica è uno sport per tutti assolutamente sì ma il livello dei campionati italiani assoluti non è per tutti è comunque per atleti che hanno che dedicano il loro tempo e la loro vita all'atletica e che comunque hanno deciso di fare di questo sport comunque appunto un aspetto importantissimo e comunque hanno deciso di appunto fare l'atletica di fare gli atleti a tutto tondo ecco ecco poter partecipare chiaramente come atleta è sicuramente come dicevi una cosa per pochi mentre però voler assistere a questi campionati italiani assoluti è un desiderio di tantissimi cittadini e cittadine della nostra città c'è qualche novità rispetto alla possibilità di ampliare un pochino per quanto riguarda i biglietti so che chiaramente la tribuna ne ospita un certo numero c'è la possibilità di far sì che magari anche altri possano assistere a questo evento allora il montagna innanzitutto sarà tirato a lucido sia dal punto di vista proprio tecnico e per gli atleti perché saranno sicuramente il comune sta facendo un grandissimo sforzo per sistemare le pedane per sistemare quelle parti di pista che non sono più performanti quindi sia per gli atleti ma anche per chi vorrà assistere sarà un montagna che non siamo abituati a vedere ecco non un montagna che tutti quotidianamente possiamo vedere perché si cercherà di fare in modo che più persone possibile possano assistere a questa questa manifestazione quindi ci saranno più posti rispetto alle tribune che tutti noi fino ad oggi conosciamo e quindi poi prossimamente saranno anche diffuse le modalità e le possibilità di acquistare i biglietti e capire come si potrà assistere a questa manifestazione non solo appunto nel corso delle gare ma anche appunto assistere magari e vedere e sfruttare al meglio il il parco sia per gli atleti che per che per gli spettatori sarà sicuramente una bella vetrina anche per la società eh spezia du ferco pensi che questo evento possa contribuire in qualche modo alla crescita del movimento a livello locale attirando magari perché no anche eh più eh ragazzi e ragazze nel fare questo sport ma assolutamente sì cioè organizzare una una manifestazione di questo tipo deve assolutamente attirare il più possibile i giovani avvicinare il più possibile incuriosire i giovani ed avvicinarli ed avvicinarli all'atletica sicuramente arriveranno i big quindi gli atleti più conosciuti gli atleti che hanno tenuto medaglie olimpiche ma anche atleti che proveranno a strappare il passo olimpico perché abbiamo la fortuna di eh che eh dal punto di i campionati italiani assoluti di spezia sono inseriti e incastrati in un calendario internazionale di di assoluto pregio perché si incastano perfettamente tra eh gli europei di Roma e le olimpiadi quindi tutti gli atleti che vogliono o che sono in procinto di partecipare al alle olimpiadi dovranno potranno venire a spezia e o provare o consolidare la loro preparazione o come spesso capita eh tentare eh il possibile per poter essere convocati e partecipare alle olimpiadi che penso sia poi il sogno di ogni atleta. Carolina ti faccio un'ultima domanda perché voglio proprio anche anticipare uno dei temi che sarà poi oggetto delle nostre future trasmissioni perché è davvero eh importante il coinvolgimento e anche l'entusiasmo con il quale questo è avvenuto dei tanti volontari che saranno impegnati in queste giornate. Sì eh allora questi eventi eh si possono possono essere eh si si realizzano grazie sì alle istituzioni agli enti che ci aiutano ma anche grazie al lavoro di eh decine e decine di persone che prestano la loro passione la loro buona volontà nel mettersi a disposizione proprio per eh aiutare ed essere e fa e svolgere l'attività di volontario ecco quindi proprio mettersi a disposizione dell'organizzazione per poter svolgere tutti quei compiti che non si vedono ma che sono fondamentali nella nell'organizzazione di questi di questi eventi. E ne parleremo in maniera approfondita chiaramente nelle prossime puntate. Io ringrazio per essere stata nostra ospite qui con noi Carolina eh Leporati, allenatrice della società eh Spezia Duferco. Grazie. Grazie a voi. Grazie ovviamente a tutti i nostri telespettatori e vi do appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Un Traguardo Chiamato Assoluti. Arrivederci. Grazie a tutti.